...dai che non l'hanno trovato, dai! Buck? Thermite? Jackar? Ti metto un minuto qua a me! Non lo so! Raga, mi vengono a prendere! C'è qualcuno che ti attraversa! Cazzo! E non moriva sta merda, oh! Dove sono, raga? Attento il corridoio alla tua destra, P! Cazzo! Nooo, dai! Mi ha fatto il wallback! Cazzo merda! E' fuori altra cappeso! Fuori dall'obiettivo, dove c'è Almira! Rampinato! C'è un altro fuori di Ricky! E' stato un biomegico! E' visto davanti tevi! E' mio, e' mio, e' mio, e' mio! è mio, e' mio, e' mio, e' mio! Cristo È full team eh Non per dire Eh sì Ho fatto una kill io prima Dai Echico Full team